Robert Acquafresca è l'ultima idea di mercato del Campobasso per infoltire e impreziosire il reparto offensivo. Badate bene, è solo un'idea che però potrebbe prendere forma nelle prossime ore. Classe 1987, Torinese, Acquafresca nell'ultima stagione è stato fermo nel 2017-18 nel Sioni-Svizzera. Sei presenze e un gol l'anno precedente. In B con la Ternana poche partite, così come a Bologna l'ultima stagione con il piede sul gas nel 2014-2015. 26 presenze e tre gol proprio con il rosso-blu. Rappresenterebbe l'alternativa Musetti, un bomber esperto in cerca di riscatto di un nuovo inizio. Nel frattempo la squadra è concentratissima sul big match in programma domani al Romagnoli. In campo i lupi contro l'Avastese in campo, attacchi stellari da una parte Musetti che dovrebbe tornare ad indossare la maglia da titolare dopo l'esclusione di Tolentino. Dall'altra, Dos Santos e l'ex vittorio Esposito ci sarà da divertirsi con Cudini che potrebbe confermare il 4-3-1-2 sperimentato nell'ultima gara per irrobustire il centrocampo. Campobasso-Avastese sarà diretta da Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1. A Chieti l'Olimpio agnonese cerca la vittoria scacciacrisi contro un 11 in salute e lanciatissimo nelle zone nobili della classifica. Durante la rifinitura di questa mattina, mister Mauro Marinelli ha concentrato l'attenzione sulle palle inattive per evitare di prendere altri gol. Sul nuovo modulo i Granata saranno in campo, probabilmente con il 4-4-2 e con Perkovic titolare accanto ad Acosta. Chieti agnonese verrà arbitrata da Davide Giacometti di Gubbio. Infine il Vasto Girardi in forma smaiante, protagonista di questo inizio di stagione. Squadra al completo per mister Farina dopo la riabilitazione di Leo Grazioso con il giudice sportivo che ha ammesso l'errore e tolto la squalifica combinata inizialmente per uno scambio di persona. Ancora 4-3-3 per Farina e formazione base con l'ambizione di giocare un brutto scherzo ad una delle migliori formazioni del raggruppamento e contemporaneamente portare a 6 la striscia dei risultati utili consecutivi tra Coppa e Campionato. Vasto Girardi. Pineto sarà diretta da Alessio De Vincentis della sezione di Taranto. Grazie a tutti.